ciao ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video non sono video normali sono e anche stamattina abbiamo fuoco ieri abbiamo comprato i pellet e stamattina come avete visto pulito e adesso l'accesa ed è bellissimo vedere questo fuoco che scopre tante giorgia soprattutto è felicissima di questa stufa perché fa le video lezioni qua attaccata la stufa che giorgia fa non sta facendo in pausa non è in video lezione adesso vi faccio vedere la pallina che mi ha regalato mia sorella questa qui guardate che bella con questo bambino angioletto con l'hashtag otto sotto un tetto e poi il numero 8 è veramente veramente bellissima adesso la apro e poi vediamo di trovarci un posto nell'albero è veramente veramente bellissima e volevo anche farvi vedere che anche io anzi io ne ho due uno è qua un calzolaio e l'altro invece è qui e c'è un senso se tutte e due nel presepe abbiamo il calzolaio ed è perché il nostro papà prima quando noi eravamo piccole praticamente poi ancora un po dopo e faceva il calzolaio era un calzolaio e quindi diciamo che il calzolaio lo rappresenta ulteriormente no oltre a magari alle foto sparse tutto quanto anche il calzolaio nel presepe lo rappresenta molto quindi ecco perché è presente il calzolaio nei nostri presepi comunque adesso andiamo ad aprire la pallina e la mettiamo a posto senza nylon si vede sicuramente meglio guardate veramente è veramente bellissima grazie grazie sorellina mi piace un sacco adesso la appendiamo l'ho messa qui proprio davanti e niente adesso vado a fare due lavori e prima la colazione non è che la faccio tanto spesso però devo ricominciare mangerò questo tramezzino con pollo e bacon un mandarino e poi giorgia lì che fa la video lezione con le cuffie e poi qui mi sono preparata l'acqua calda per andare a fare il tè bianco che ho trovato ieri nel calendario dell'avvento così massaggio e vi dico poi com'è bene con i dentini brava masica bene con quei bellissimi denti è buono vero chi c'è lì ci sei tu mangi il mandarino poi ci prepariamo così andiamo a ritirare il lavandino va bene anche per la parola verrà verrà mamma buongiorno 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 stai calma stai calma eh qui si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Partiamo per andare giù che devo andare in farmacia per Pia, prendermi la garza, poi dobbiamo andare alla prealpina a ritirare il loannino e fino da Teddy che voglio prendere quegli stickers anche per le bambine e poi il compasso per Giorgia. Grazie a tutti. 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 Mi sono messa lì con tanta pazienza e volontà e ho sistemato. avevo due aiutanti di pia, infatti quando mi abbasso è per prendere la pasta che Giada passava a Pia e Pia passava a me perché sennò rugnava e voleva praticamente rendersi utile, voleva la pasta che è un'altra parte che è stata la pia anche lui. e quindi l'abbiamo coinvolta nella sistemazione della dispensa e vi lascio vedere poi qual'è stato il risultato finale. Grazie a tutti. 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 Benissimo. Grazie a tutti. 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 hamburger di hamburger. Grazie a tutti. Grazie a tutti.